La chiamata che state vedendo è completamente automatizzata. Vediamo cosa mi dice. Lo ripeto, devi prendere le gocce di odin 5. Ti chiamo tra dieci minuti per assicurarmi che tu le abbia prese. Un bacio e a presto. Ok, questa è un'automazione che ho creato per mia nonna, che ha da poco subito un intervento agli occhi e per questo deve prendere un sacco di medicinali per curarsi. Mi ha chiamato mia mamma, che era quella che la chiamava più di dieci volte al giorno per assicurarsi che avesse preso il trattamento, e mi ha chiesto se si poteva automatizzare questa cosa qui. E in questo video vi faccio vedere come ho fatto semplicemente utilizzando uno strumento, Make, senza scrivere codice. Ok, vediamo come funziona. Per settare e creare questa automazione ci serviremo di un servizio terzo, che è quello di Twilio. Twilio è un servizio che si può accedere tramite API, può diventare molto tecnico ed è molto potente. Tra le tante cose che si possono fare con Twilio possiamo automatizzare la ricezione di chiamate e l'invio di chiamate e l'invio e la ricezione di SMS. Una volta entrati nella dashboard potete creare un account gratuito in cui avrete già un credito. Finito il credito dovrete comprare dei numeri come se fosse comprare una SIM e a quel punto caricarla come si caricherebbe una SIM per andare a utilizzare questi numeri e automatizzare chiamate e SMS. Una volta entrati nella dashboard potete andare su Phone Numbers, Active Numbers, qua vedete che io ho un numero attivo e se clicco sul numero abbiamo certe caratteristiche di Webook, soprattutto che è quello che ci interessa, che è il modo in cui faremo comunicare Make con Twilio. In seguito Make chiaramente è il nostro strumento di automazione in cui andremo a collegare via API, quindi via chiamate, i due sistemi, quello di Make e quello di Twilio, in modo tale da comunicare a Twilio che ci deve chiamare in quella determinata ora o mandare l'SMS, dove salviamo le ore in cui ci deve chiamare in un datastore sempre di Make che permette di, ha questa funzionalità, oltre ad automatizzare, ti permette anche di creare un database con dei dati. Quindi se faccio browse qua vedremo che abbiamo tutti gli orari dei vari trattamenti. E quindi se vogliamo aggiungere una chiamata, per esempio, andremo a modificare l'orario, basterà farlo da qui e quindi sappiamo che alle 16 mia nonna riceverà una chiamata ricordandole di prendere il trattamento ODM5. Salviamo. Ok. Questo è Make. Se non siete familiari con lo strumento vi invito a farmelo sapere nei commenti se volete un tutorial in italiano su questo strumento, altrimenti vi invito anche a iscrivervi all'Academy che stiamo per lanciare su NoCode e Intelligenza Artificiale per darvi accesso alla piattaforma dove ci saranno tutte le nostre formazioni e casi d'uso per formarvi e capire il potenziale di questi strumenti. Questo è lo scenario principale, ma non è l'unico che ci servirà. In questo scenario vediamo appunto un modulo Datastore, che lo recuperiamo da qui. Questi moduli ci permettono di fare tante cose, quindi update un record, quindi aggiungere, togliere, cancellare, modificare quello che c'è all'interno della nostra base dati. Nel nostro caso abbiamo un search record. Come vedete abbiamo un trigger temporale. Quindi per esempio possiamo andare a impostare che controlli se uno dei... se l'orario andrà a recuperare, scusate, il record all'interno del database ogni 30 minuti, dalle 9 alle 21 tutti i giorni. Recuperato il dato, allora a quel punto abbiamo in questo modulo, andiamo a recuperarci, andiamo a fare un match tra l'ora che abbiamo nel database e l'ora attuale, in modo tale da capire se è presente. Siccome ogni tanto non sono estremamente precisi, non è preciso al minuto perché magari ci possono essere ritardi nella chiamata API, allora ho integrato anche questo now-1, now-2. Cosa significa? Dalla data di oggi e il momento attuale andiamo a prendere l'ora e il minuto, e in questo caso è l'ora esatta. E qua andiamo a sottrarre un minuto, fino a 5 minuti, in modo tale da essere sicuri che se per esempio noi abbiamo settato un orario alle 16, ma abbiamo, a causa di alcuni ritardi tecnici, la chiamata API arriva alle 16.03, siamo comunque sicuri che la chiamata parta e che mia nonna riceva la chiamata per prendere il trattamento. Come facciamo il match? In questo filtro in cui andiamo a paragonare, vedete che abbiamo il modulo del datastore che si illumina, quindi questa è l'ora che viene recuperata come array, quindi tutte le ore presenti nel database, le andiamo a paragonare invece con tutte le ore che abbiamo stabilito nel nostro modulo tools. Quindi in modo tale da assicurarci che se almeno una delle ore matcha è uguale alle ore che abbiamo inserito in questo modulo, allora andremo avanti nel nostro scenario, quindi partirà la prima chiamata. Come vedete abbiamo qua il numero di telefono che abbiamo acquistato su Twilio, automaticamente trovato dopo aver effettuato la connessione, e a quel punto, dopo aver ricevuto la chiamata, andiamo a chiamare, la chiamata triggera l'invio di alcune informazioni a questo webbook. Quindi andiamo ad inserire anche la key del nostro datastore. Questo ci serve perché? Perché così siamo in grado poi, nell'altro scenario che adesso vi mostro, di recuperarci il nome del trattamento. Tutte queste informazioni su come settare il modulo di Twilio lo trovate direttamente nella documentazione API di Twilio. Come vi ho detto, abbiamo chiamato, nel momento in cui ce l'hai chiamata, chiamiamo un webbook, ed è la prima chiamata che era reminder call, semplicemente per ricordare a mia nonna che deve prendere quella medicina. Quindi l'URL che avete visto prima è identico a questo qui, in modo tale che le informazioni vengano passate a questo scenario. In più, rispetto a quest'URL, vi ricordo l'URL parameter, quindi il punto di domanda con la key, e questo ci serve perché andiamo a recuperare la key in questo modulo per recuperare il nome del trattamento. e poterlo inserire invece nel modulo di webbook response. Webbook response che ci serve proprio per andare a inserire il testo che verrà poi parlato, diciamo, dalla macchina, dal robot, durante la chiamata. Quindi questo è un codice simile a XML, si chiama Twiml, che è specifico di Twilio. Anche questo trovate tutta la documentazione su Twilio. E, per esempio, io ho inserito la voce di Adriano Neural, che mi sembrava quella più reale, però ci sono tante altre voci che trovate nella console di Twilio, sotto voice e settings text-to-speech. Qua vedete che abbiamo un sacco di voci in qualsiasi lingua. Quindi queste sono specifiche proprio di linguaggio di Twilio. Quindi qua abbiamo il nostro messaggio, che avete sentito all'inizio di questo video, con la variabile, che è il nome del trattamento, in modo tale che quando, a seconda dell'ora, ci sarà un trattamento diverso da prendere. Ecco, a cosa serve? Questo, anche qui, è una funzionalità abbastanza avanzata di Make, quello del webbook response, in modo tale che quando un webbook di default è sollecitato, se la risposta è 200, quindi tutto è andato a buon fine, la risposta sarà accepted. Inserendo un webbook response alla fine del nostro scenario, possiamo andare a modificare la risposta del webbook una volta azionato. Tornando al nostro scenario principale, abbiamo ricevuto quindi la prima chiamata, quella che avete sentito all'inizio del video. Ok? E come avete sentito, nella chiamata dico, ok, ti richiamo tra dieci minuti per sapere se hai preso le pastiglie effettivamente. Qui abbiamo un modulo che mi permette di aspettare un minuto, quindi di ritardare di un minuto prima di entrare nel modulo seguente. Questo mi serve per recuperarmi lo status della call. Anche in questo caso aspetto un minuto in modo tale da assicurarmi che non sia immediato, perché magari se è immediato non ho lo status aggiornato della call. E questo mi serve per capire se mia nonna ha risposto, non ha risposto, se ha messo giù, eccetera. Quindi anche qui avremo un call ID e la risposta sarà lo status della call. Che mi serve per definire due branch, due rami. Quindi, se lo status è no answer, allora, scusate, è diverso da if status is not equal to no answer, oppure è machine start. Non è machine start. Quindi questo cosa significa? Answer by è un valore che questo modulo ci ritorna, che identifica se per esempio la risposta è di una, magari una segreteria telefonica. mentre status no answer è proprio se non riceve risposta, magari uno non ha la segreteria telefonica, allora lo status diventa no answer. Invece, se invece la risposta è una segreteria telefonica, oppure è no answer, allora entrerà in un branch di no answer in cui magari riproviamo, come in questo caso, questo è esattamente lo stesso modulo, in cui riproviamo quindi dopo circa un minuto a rifare la prima chiamata. Allo stesso modo riprendiamo lo status. se lo status di nuovo non è, se di nuovo mia nonna non risponde, allora mandiamo un sms a mia madre dicendole la nonna non ha risposto alla seconda chiamata, chiamala per assicurarti che abbia preso il medicinale e il nome del medicinale. Se invece risponde alla seconda chiamata, e questo branch, come vedete, è identico a questo qui, perché nel caso di una risposta, allora entriamo nel secondo branch. quindi che sia qui o qui, poi le azioni sono le stesse. Quindi qua aspettiamo quindi dieci minuti, quindi cinque minuti più quattro minuti, siccome avevamo già aspettati uno prima, per poi andare a fare una chiamata di conferma. Quindi in questo caso la metodologia è la stessa, quindi andiamo a mandare il webhook, chiameremo questo webhook passando questa key, ok, sempre la key del nostro datastore, e a questo punto lo scenario che riceve le informazioni relative alla chiamata, quindi le informazioni di Twilio, sarà quello che è confirmation call dieci minuti. quindi questo webhook sarà lo stesso. Anche qua ci assicuriamo che non sia risposto da una macchina. Recuperiamo le informazioni del trattamento, e in questo caso andiamo a creare un Twilio un po' più complesso, che ci permette di interagire con la persona. Quindi come vedete la struttura è molto simile, ma la domanda è, ciao nonna, hai messo le gocce di, e il nome del trattamento? Premi 1 se hai già prese, oppure 2 se non le hai prese. In questo caso abbiamo l'azione, quindi in cui passiamo la risposta, quindi gather, questa è una funzione che Twilio permette, per recuperare l'input dato dall'utente. E l'input è passato, quindi, a quest'altro webhook, quindi a un terzo scenario, ok, per recuperare, appunto, sapere se mia nonna ha risposto 1 o 2. Nel momento in cui risponde, rispondiamo grazie a un bacio, e se invece non risponde nulla, allora mandiamo a un quarto scenario, quindi a un quarto webhook, il fatto che non ha risposto, non ha pigiato né 1 né 2. Quindi, da questo scenario, quindi andiamo a triggerare un terzo e un quarto scenario, che ora andiamo a recuperare. Quindi, sicuramente 1 è questo, quindi il getDigisSendConformationMessage, quindi quello che recupera il numero digitato, quindi o 1 o 2, e quello che invece reindirizza se non viene digitato né 1 né 2. Nel primo caso, andiamo semplicemente, gli step sono gli stessi, tramite webhook recuperiamo le informazioni, grazie alla funzione gather di Twilio, recuperiamo la key dal datastore per recuperare il nome del trattamento, e se il tasto pigiato era 1, allora mandiamo un messaggio dicendo la nonna ha preso le medicine e il nome del trattamento. Se invece il tasto pigiato è 2, la nonna non ha preso le medicine con il nome del trattamento e una call to action per mia madre dicendo chiamala. E questa, vabbè, è un webhook response, semplicemente endgap, perché sennò al telefono si sentiva accepted, che veniva letto. Come vi dicevo di default, il webhook response è accepted, io volevo che fosse vuoto, che non dicesse nulla, e quindi semplicemente ho creato questo HTML, questo HTML, scusate, semplicemente con endgap. Nel caso che non vengano pigiati né 1 né 2, vedete, no digits pressed, abbiamo l'altro webhook, che è lo stesso URL che troviamo quindi qui. Quindi per ricapitolare, questo primo webhook è lo stesso che trovate in get digits send confirmation, mentre redirect è un metodo che ci permette di chiamare quindi quest'altro scenario. Allo stesso modo recuperiamo il nome del trattamento e in questo caso voglio che si mandi un messaggio a mia mamma dicendo la nonna non ha premuto né 1 né 2, chiamala per assicurarti che abbia preso il medicinale. E allo stesso modo endgap per avere una webhook response vuoto. Ok. Una volta quindi, quindi questi sono, come vedete, i quattro webhook che vengono chiamati, quindi due vengono chiamati dallo scenario make a call, quindi le chiamate, quindi la prima chiamata reminder call e la seconda chiamata confirmation call dopo 10 minuti e la seconda chiamata dopo i 10 minuti può azionare altri due webhook. O il primo che recupera i numeri, il numero pigiato o 1 o 2 per mandare un SMS si l'ha preso o no non l'ha preso, o un altro webhook per rinnovare passare le informazioni a quest'altro scenario per mandare un SMS dicendo guarda che non ha pigiato né 1 né 2. In questo modo siamo in grado di coprire tutti i potenziali casi. Quindi siamo arrivati qua, make a confirmation call, quindi la call è stata fatta, a questo punto aspettiamo un minuto per recuperare lo status e come prima andiamo a vedere se lo status è se la risposta, se la risposta era una scheda telefonica o se mia nonna non ha risposto, allora mandiamo un SMS, la nonna non ha risposto la seconda chiamata. Spero che il video vi sia piaciuto, quindi se sì, iscrivetevi al canale, questo ci aiuta a continuare a portare il no code e il paradigma, questo nuovo paradigma di creare software anche in Italia. Se vi interessate al mondo no code sappiate che stiamo lanciando la prima no code academy e intelligenza artificiale italiana, trovate il link per iscrivervi gratuitamente, questo significa che i primi 100 partecipanti avranno accesso a vita gratis alla nostra piattaforma dove accederete a tutto il nostro materiale, le nostre informazioni, i nostri software e i nostri casi d'uso. Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, se volete un tutorial magari di make per chi comincia a avvicinarsi a questo strumento, molto volentieri possiamo creare qualcosa di più, di meno avanzato. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!